Ciao ragazzi e ragazze, non vi sforzate ad aspettare le 23.30 dove c'è questa riunione d'urgenza di questi 12 club assassini, sì, io li chiamo così, assassini, per dire che è saltato tutto, ci stiamo cacando sotto, facciamo saltare tutto, già 4 club inglesi ed uno spagnolo si sono tirati fuori dalle palle, fuori dai coglioni, adesso lo faranno tutti, una pressa all'altro, una pressa all'altro, una pressa all'altro, assassini, assassini, anche i tifosi del Chelsea hanno bloccato il pullman della propria squadra del cuore che faceva parte di questo porcaio, per farvi capire quanto era grossa questa porcata, mio caro presidente, sto parlando con te, se hai un briciolo di dignità dimettiti, dimettiti, perché questa è la cazzata più grossa che tu potessi fare, la più grossa, la più grossa, la più grossa di tutte, mio caro presidente, io parlo in nome della mia squadra, poi gli altri vaffanculo lo schermo, gli altri fanno quello che vogliono, ma tu mio caro presidente sei un briciolo di dignità, visto che già la voce circola, dimettiti, vergogna, vergogna, ci stai portando alla rovina e dobbiamo sperare che a livello sportivo, dopo sto tentativo di porcata, perché questo è stato, sto tentativo di porcata, dobbiamo pregare che non rischiamo grosso ragazzi, perché non è finita qua, sicuramente, sicuramente non è finita qua, poi ripeto, gli altri fanno quello che vogliono, io parlo in nome del mio presidente, del mio presidente, che nel giro di tre anni ha rovinato, ha distrutto, dopo l'acquisto di Ronaldo, indebitandosi fino al collo, ha distrutto l'onore, l'onore di noi tifosi, e la società Juventus, brutta merda umana, dimettiti e dai la squadra in mano a gente competente, a gente che ne sa, a gente che ne sa, una cosa creata ed esclusivamente a scopo di lucro, perché questo è per ripianare i debiti, i debiti che ci siamo fatti da 3, 4, 5 anni a questa parte, perché se tu Ronaldo non te lo puoi permettere, non lo prendi, non lo prendi per distruggere il resto della squadra, il resto della squadra, perché l'abbiamo detto un miliardo di volte, inutile che mi prendi Ronaldo se poi devi giocare con queste merde, ma l'acquisto di Ronaldo è stato solo ed esclusivamente uno scopo di lucro, poi è arrivato il Covid e te lo sei preso qua, col Covid così, 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 e sei stato costretto insieme agli altri porci, perché questi ragazzi sono un ammasso di porci, sei stato costretto a creare questa Superlega per sanare i debiti, questo è, questo è, persino i tifosi delle proprie squadre coinvolte hanno remato contro, i governi hanno remato contro, UEFA e FIFA hanno remato contro, perché tu non è che ti svegli un giorno all'altro, da un giorno all'altro e decidi, eh, facciamo questa Superlega, mandiamo il calcio a puttane, chi se ne fotte, chi se ne fotte nelle squadre minori, facciamo questa Superlega e ingrassiamo tra di noi, e io sono convinto che tu l'avresti fatta sempre ed esclusivamente a scopo di lucro, perché non ci sarebbero neanche state retrocessioni, e gli incassi, i soldi, tu te li saresti preso lo stesso, e saresti andato a giocarti questa competizione con questa squadra di merda, e avremmo fatto le solite figure di merda in Europa, sono contento ragazzi, sono contento perché per una volta, e parlo in nome anche di tutte le tifoserie, soprattutto quelle minori, di tutta Europa, per una volta il Vildenaro, il Vildenaro non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta perché la UEFA, la FIFA, anche loro hanno fatto le proprie maglialate negli anni, su questo non ci sono dubbi, ma questa ragazzi, io ieri in live sono stato zitto, sono stato zitto perché ero contro, ero contro, ma questa sarebbe stata la porcata, la porcata del secolo, mio caro presidente, dopo l'ennesima figura di merda, questa soprattutto, la più a pocare di tutte, se hai, perché a me non serve aspettare la mezzanotte, perché so già tutto, se hai un briciolo di dignità, dimettiti, dimettiti, rovina di questa squadra, rovina di questa società, dai, like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, delle notifiche su tutte, e viva il calcio, e viva il calcio, fino alla descrizione, forza, forza, forza il calcio!